Bentrovati amici investitori, finalmente torniamo a parlare di start up perché dopo molto tempo ho trovato finalmente un progetto che mi ha entusiasmato particolarmente ed è per questo che ho deciso di investirci e quindi sto realizzando questo video proprio per condividere con voi questo mio investimento ma soprattutto volevo anche presentarvi l'azienda che possa essere anche un po' uno spunto di riflessione per come anche andare ad analizzare nel caso in cui voi voleste investire a vostra volta in delle start up in questo caso andremo a vedere quindi il modello di business di questa azienda vi anticipo già che è un modello di business innovativo basato sulla formazione perché appunto l'azienda si occupa di formazione e soprattutto poi vi voglio far vedere ovviamente anche una parte di numeri per andare a capire quali sono gli aspetti importanti da considerare quando si sceglie di investire in start up e poi ovviamente concludiamo andando a materialmente effettuare insieme l'investimento l'investimento in start up è uno di quegli investimenti che preferisco perché ovviamente ci sono delle altissime potenzialità di ritorno dagli investimenti a me particolarmente piace perché ti fa sentire anche molto più partecipe della vita dell'azienda perché ovviamente ci sono molti meno investiture di quanti possono essere nel mercato azionario però ovviamente di contro abbiamo la problematica che ovviamente è un investimento molto meno liquido e soprattutto con un livello di rischio più alto ovviamente il rapporto rischio rendimento è sempre presente quindi ovviamente questi non sono consigli di investimento né inviti a farlo ma semplicemente valutate bene in base alla vostra propria situazione personale e finanziaria ad ogni modo questo progetto nello specifico mi entusi ha smatto particolarmente ed è per questo che ho deciso di investirci ci sono tante cose di cui vi voglio parlare e lo farò subito dopo la sigla in questo caso siamo sulla piattaforma we are starting e il progetto in cui andrò ad investire è quello della Acminos SRL ragazzi date dei nomi più semplici a queste SRL vi prego il progetto nello specifico ha la denominazione SDC e nel momento in cui sto registrando sono stati già raccolti 57.000 euro su un minimo di richiesta di 45.000 quindi il progetto verrà già sicuramente finanziato però ancora abbiamo spazio di investimento due note prima di andare nello specifico del business se leggete qui che il beneficio fiscale è assente in realtà so per certo che l'azienda sta facendo riconoscimento per aderire al beneficio fiscale che può essere del 30 o del 50% quindi tenete assolutamente monitorato questo aspetto perché nel caso appunto all'azienda venisse riconosciuto questo beneficio fiscale ovviamente rientrereste anche voi nel beneficio secondo aspetto fondamentale intestazione conto terzi non andiamo qui nello specifico altrimenti questo video durerebbe un'eternità ma prendetelo assolutamente in seria considerazione nel momento in cui andate ad investire se lo fate perché intestare il conto terzi permette sia eventualmente se ne aveste bisogno di intestare ad un minore se volete farlo per vostro figlio ma in generale se un domani voleste rivendere la quota con l'intestazione in conto terzi è molto più semplice e molto più economico ma passiamo finalmente a cercare di capire cosa fa nello specifico questa azienda stiamo parlando di formazione alternativa alternativa cosa alla formazione pubblica quindi formazione a livello di scuola media e scuola superiore in maniera alternativa che cosa vuol dire però questo alternativo questa scuola si prefigge appunto l'obiettivo nasce soprattutto per permettere a tutti coloro che avevano per esempio come gli sportivi che a livello agonistico avevano l'esigenza appunto di fare anche altre attività legate alla scuola di avere un modello di istruzione che gli permettesse di conciliare queste due esigenze ovviamente il modello scolastico tradizionale non dovendo essere lo stesso per tutti quanti non può prevedere le esigenze del singolo mentre in questo caso avendo una formazione più ristretta non solo si riescono a prendere in esame tutte le esigenze delle singole persone ma si riesce anche a fare un modello di formazione innovativo attualmente col modello SDC in realtà si vuole espandere quindi il target di riferimento non solo agli sportivi professionisti ma ovviamente a tutti coloro che sono da un certo punto di vista delusi dal sistema scolastico tradizionale o comunque hanno delle esigenze diverse che il sistema scolastico non riesce a soddisfare o per esempio sugli abbandoni scolastici quindi tutta una fetta di persone che appunto non riescono a trovare piena soddisfazione nel sistema scolastico tradizionale ma in cosa consiste questo approccio innovativo alla formazione? questo è l'aspetto per me più interessante e devo dire anche uno di quelli che mi ha poi convinto ad investire in questa azienda perché ricordiamo il modello di business è sicuramente la cosa più importante quando si fanno degli investimenti in un'azienda in questo modello si cercano di fondere tre diverse tipologie di formazione nello specifico abbiamo per esempio quella anglosassone dove prendiamo un macro tema e cerchiamo di declinarlo attraverso tutte le differenti materie poi abbiamo quello finlandese dove in realtà si cerca di raggiungere gli obiettivi tramite la realizzazione di progetti e non semplicemente assegnando per esempio dei lavori a casa ma quindi avendo proprio un'applicazione pratica di quello che si vuole insegnare e poi abbiamo il classico modello italiano ovvero l'approccio più teorico e verticale su una singola materia per fare un altro esempio molto pratico in questo modello di formazione per esempio non si fanno le classi solo in base all'età ma si fanno le classi soprattutto in base alle necessità alle argomentazioni, alle esigenze o alle materie quindi possiamo avere in una stessa classe ovviamente differenti età dove magari il più piccolo può imparare dal più grande e il più grande si viene responsabilizzato dall'esempio che deve dare al più piccolo quindi stiamo effettivamente parlando di un metodo nuovo di un'idea innovativa e soprattutto di un qualcosa di utile che va a risolvere degli effettivi problemi che possono essere quelli degli sportivi di chi non si è integrato bene a scuola quindi c'è un'effettiva risoluzione di un problema ma questo approccio innovativo per quanto bello e interessante dato che qui invece stiamo parlando di investimenti ha un suo ritorno effettivamente economico andiamo a vedere quello che ci dicono i numeri ho scelto di mostrarvi questo modello semplificato perché ci sono dei punti chiave che possiamo analizzare senza andare troppo nel dettaglio che sono però i punti fondamentali ovvero il numero di iscritti alla scuola che sta crescendo in maniera esponenziale ma soprattutto il fatturato che anche esso sta crescendo in maniera esponenziale ed è pari in questo momento a 448.000 euro e su questo fatturato in realtà la valutazione dell'azienda che è stata data lo leggiamo qui è di 750.000 euro quindi in realtà stiamo parlando di circa due volte il fatturato che per quanto mi riguarda è una valutazione assolutamente onesta ma come farà l'azienda a sostenere questi alti ritmi di crescita che poi effettivamente il lato investitori ci potranno dare degli alti rendimenti su questo tema in realtà viene un aspetto forse ancora più interessante del precedente sulla modalità innovativa di formazione ovvero se leggiamo qui nel 2019 leggiamo test di scalabilità fallito che cosa vuol dire? che hanno provato ad avere un modello di business scalabile hanno fallito ma perché questa cosa invece è positiva? perché in realtà da questo tentativo c'è stata una lesson learned quindi una lezione imparata quindi oltre loro a formare riescono anche ad imparare e da questa loro esperienza adesso hanno creato un nuovo modello di scalabilità che invece è assolutamente percorribile nello specifico in questo momento la scuola ha già tre sidi aperte e come modello di scalabilità ci sarà un modello diretto dove appunto la società stessa aprirà direttamente nelle nuove sedi che sono strategiche chiamate di primo livello dove a Milano, a Roma, a Bergamo, Brescia, Verona e così via mentre riuscirà, andrà ad aprire delle altre sedi di secondo e terzo livello tramite franchising questo per me è un altro aspetto cardine perché ovviamente vuol dire che il business è assolutamente scalabile non solo è scalabile in Italia come è scalabile tranquillamente anche in Europa quindi questo ci dà grande potenzialità di espansione e di possibile guadagno ovviamente ma come andranno ad utilizzare i nostri soldi e soprattutto quale metodologie di investimento sono disponibili? i soldi che stanno raccogliendo andranno utilizzati per strutturare meglio le sedi già esistenti per il 27% in pubblicità per il 33% nuove sedi e franchising 20% riserche e sviluppo altro 20% per quanto riguarda invece le possibilità di investimento abbiamo tre diverse possibilità la prima che prevede un minimo di 15.000 euro ti dà diritto a delle quote che hanno anche diritto di voto mentre la seconda quindi le quote B che sono da partire da 300 euro che ti danno i diritti patrimoniali quindi eventualmente sui profitti ma non i diritti di voto ci sono in realtà anche delle quote chiamate BS che prevedono anche un riacquisto da parte della società stessa ad un prezzo definito però in questo momento non sono più disponibili ma io la vedo in maniera positiva perché appunto vuol dire che la società comunque crede nel suo progetto ed è appunto disposta già in questo momento ad assicurare di ricomprare un determinato numero di quote ovviamente se volete andare nel dettaglio del progetto in basso troverete tutti i documenti dallo statuto alla presentazione che è quella che vi ho fatto vedere alla visura e così via trovate assolutamente tutto qui ma adesso spostiamoci nella sezione investimenti perché è il momento di comprare nella sezione investimenti dobbiamo ovviamente andare a dare una serie di conferme andiamo poi ad inserire il numero di quote che vogliamo comprare in questo caso io andrò a comprare tre quote da 150 euro a quota quindi per un totale di 450 euro proseguiamo andiamo quindi a confermare il nostro importo e adesso per completare l'ordine dovrò semplicemente fare un bonifico alle coordinate che mi sono state rilasciate il bonifico è stato effettuato quindi in questo momento la nostra transazione si è conclusa e infatti eccolo qua nella mia dashboard di WeAreStarting è apparso l'investimento che abbiamo appena effettuato il mondo della startup è sicuramente un mondo assolutamente affascinante ci sono tanti vantaggi fiscali ci sono delle grandi potenzialità di guadagno però ovviamente vi ricordo che non solo non sono consigli di investimento ma fate bene i vostri conti perché ovviamente ci sono anche i rischi e ci sono la mancanza un po' di liquidabilità di questo tipo di investimenti vi lascio qui sotto in descrizione il link se volete approfondire questo investimento o magari degli altri startup che ci sono sulla piattaforma WeAreStarting fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video io vi saluto e buon dividendo a tutti a tutti i giorni con un nuovo video